Oggi ragazzi andremo a shoppare le nuove skin speciali gratis dei Rabbids su StumbleGuys Vincendo le partite andremo a sbloccare una skin di Rabbids sempre più rara Fino a sbloccare la nuova skin speciale Infatti ragazzi le skin che andremo a sbloccare oggi sono in tutto ben 6 E iniziamo ragazzi con questo coniglio Ma ragazzi ma quanto è bello Questa qua sarà una collaborazione del gioco Rabbids e di StumbleGuys Ma ragazzi queste skin sono veramente le più belle che abbia mai visto Questa qua è la collaborazione più bella che StumbleGuys abbia mai fatto Infatti ragazzi inizieremo con la skin comune dei Rabbids che è un semplice coniglio Ma ragazzi ma guardate quanto è bello questo coniglio E se questa skin è bella dovete vedere ragazzi le altre perché sono veramente assurde E probabilmente questa skin che sto utilizzando e anche altre dei Rabbids saranno gratuite per tutti Ma ragazzi per vedere tutte le nuove skin dei Rabbids seguite tutti i video dall'inizio fino alla fine E iscrivetevi tutto al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video bellissimi E lasciate un bel piace a questo video Siamo ragazzi nella Space Race Dai ma ci poteva capitare una mappa migliore La Space Race ragazzi fa solo la fortuna E visto ragazzi che la fortuna non mi piace Ho usato un hack per vedere la fine della Space Race Infatti ragazzi il coso rosso mi segnala dove è la finale ma non ci credo ragazzi Dai questo qua è indovinato Ma ragazzi abbiamo vinto abbiamo vinto Voi non avete visto nulla Sblocchiamo una prossima skin che è questa ragazzi ma quanto è figo Vabbè ragazzi questa skin mi sa che è diventata una delle mie preferite Guardate quanto è bella con la lingua di fuori Con la camicia d'estate E poi con i suoi occhiai da sole e pure sopra uno skateboard Vabbè ragazzi ma questa skin è veramente una figata Quindi ragazzi adesso io dovrei essere in uno skateboard Oh mio dio raga che figo Guardate ragazzi sono sopra uno skateboard No vabbè ragazzi stumble guys veramente si sta rivoluzionando Sta facendo veramente degli aggiornamenti incredibili Sta aggiungendo ragazzi delle skin delle nuove mappe veramente assurde ragazzi Ma quanto è bella questa skin Ma se io tiro un emoticon sopra allo skateboard Che cosa succede vediamo Ah no scendo dallo skateboard e gli tiro il pugno mi sembra ovvio Ma non posso lanciare tipo lo skateboard in testa a qualcuno No peccato lo volevo proprio fare Ma ragazzi ma questa skin è assurda Ma quanto è bella Mi raccomando ragazzi guardate il video dall'inizio fino alla fine Fatemi sapere sotto nei commenti poi quale sarà il vostro rabbit preferito Questa skin ragazzi è bellissima Ma anche le prossime skin saranno ragazzi come questa Sono veramente tutte bellissime Io ripeto ragazzi questo qua è la collaborazione più bella Che stumble guys abbia mai fatto Vabbè ragazzi ma sono già diventato fortissimo con questo skateboard Con questo skateboard ragazzi i trick sono leggermente diversi Perché devi prendere un po' il salto diverso Perché non c'è i passi E non vedi i piedi che camminano Quindi sarà leggermente diverso giocare con questo skateboard Ma ragazzi sinceramente Ma sti grandi cavoli dei trick Ragazzi è bellissimo giocare con questa skin E lo skateboard Finale ragazzi con il nostro coniglio sullo skateboard Vai ragazzi andiamo a vincere questa partita Proverò a fare anche un po' di trick ragazzi a meno vedo un po' com'è Ok bravo coniglio ragazzi abbiamo uno accanto Questo qui non è Eccolo qui Guarda com'è caduto E ragazzi andiamo a vincere questa partita Guardate ragazzi ma quanto è bello questo coniglio Con la lingua di fuori Bellissimo Passiamo ragazzi alla prossima skin Che è questa Questa è lo skeleton rabbit E ragazzi è un coniglio scheletro Ha pure le ossa nelle orecchie Ma che bellino Andiamo ragazzi subito a vedere la nuova skin del coniglio scheletro Bellissima pure questa ragazzi Ma tutte le skin che oggi andremo a vedere ragazzi Sono tutte bellissime Non ce n'è una brutta Veramente ragazzi Io adoro questi conigli Sono troppo belli ragazzi Guardate quanto è bello Questo qui non ha nemmeno la bocca E ora ragazzi andiamo a qualificarci con questa nuova skin dello scheletro Anche questa ragazzi è veramente bellissima Ma ragazzi ci troviamo nella nuova paesola del tesoro E se vinciamo questa partita Arrivando ovviamente primi Andremo a sbloccare la prossima skin Ok ragazzi io adesso sono a 10 monete Sono un attimo in questa bioma della lava Per prendere più monete possibili quindi Vai spezzaraccata tutte le monete Ok occhio la palla Il mio coniglio ha preso la palla in faccia Oh la moneta d'oro Vedi quella bavarino Sì l'ho presa Let's go 10 monete per noi Vai ragazzi sono primo Rega sono a 41 monete Vai Vai ragazzi prendiamo questo scivolo Rega e andiamo a 63 monete Andiamo un po' nella bombardament Vai per raccatta le monete Raccatta ragazzi Ne sto raccogliendo tantissime Mi sa ragazzi che in questa partita faccio il record mondiale di monete Rega sono a 90 Ragazzi mancano due minuti 99 Mamma mia ragazzi sono sopra le 100 Rega mi sono fatto il record mondiale Ragazzi questo qui è il record mondiale 113 monete Andiamo a vincere questa partita Andiamo a sbloccare la prossima skin ragazzi Che è questa Oh mio dio Quanto è bello Mamma mia ragazzi Il coniglio sensei Che figo ragazzi Questa skin è veramente bellissima ma quanto è bella Ragazzi io ripeto Ragazzi io ripeto è ufficiale questa collaborazione con queste skin dei conigli è veramente la migliore Finalmente stumble guys ragazzi stai impegnando a fare queste skin Guardate quante belle Quanto sono belle Ragazzi finale di Hot Wheels ragazzi proviamo a vincere questa partita Anche se non c'è nessuno Quindi in teoria dovremmo vincere per forza Non so ragazzi perché non ci sia nessuno Ok non lo so Però ragazzi è meglio così Così andiamo a vincere questa partita Ah ho capito ragazzi perché non ci sono Il sensei Alle sue tecniche Avrà usato ragazzi qualche tecnica Qualche yoga Dele sue E ragazzi ha fatto scomparire tutti i giocatori Poi ragazzi ma è meglio così Andiamo a vincere questa partita con la nuova skin del sensei In bocca del coccodrillo E ragazzi tagliamo il traguardo Let's go Ma ragazzi preparatevi perché tra poco andremo a sbloccare la nuova skin speciale Abbiamo vinto anche con il sensei La prossima skin ragazzi è questa Rabbit Guy Ma guardate ragazzi come sorride Questa skin ragazzi è bellissima Ha un po' di panza Il signor rabbit Però ragazzi è vestito come uno stumble guys normale Però ragazzi è un coniglio E questo ragazzi lo rende ancora più bello Vabbè ragazzi ma quanto sono belle queste skin Ma quanto sono belle queste skin ragazzi Ma ragazzi siamo in partita con questa Vabbè no ragazzi no 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 Questa skin ragazzi è illegale Questa skin ragazzi è troppo bella Ma è troppo stupida Ma guardate come sorride Cioè ragazzi lo vede questa skin e gli viene automaticamente da ridere Cioè ragazzi come è possibile Guardate quanto è bella Come è bella sorridente Vabbè ragazzi io amo queste nuove skin dei conigli Tu le ami? Non le ami? Ah ti becchi un bel cazzotto E ti butto anche giù perché mi stai antipatico Vai giù Sì? Ma ragazzi poi le orecchie da coniglio che rompono il cappellino E sbuggano fuori Ragazzi è veramente un tocco di classe Ma ragazzi se vinciamo questa partita Andiamo a sbloccare la nuova skin speciale Quindi ragazzi preparatevi Siamo ragazzi nel laser tracer E sapete cosa vuol dire quando spezia nel laser tracer Andiamo a prenderla a cazzotti tutti quanti Il coniglio sorridente ragazzi è molto cattivo Quindi beccati sto cazzotto E finisci giù nel laser Anche tu beccati un bel cazzotto Sì, sì, premiamo a cazzotti tutti Brutto clown Sì ragazzi Sono stato un po' troppo cattivo Non mi interessa ragazzi Devo vincere questa partita per andare a sbloccare la nuova skin speciale Ok ragazzi siamo nella lava rush Sfodiremo i miei migliori trick ragazzi Con questa nuova skin da nabbo Però è del coniglio quindi è molto più figo Ok qua ragazzi facciamo un bel saltino da pro Mamma mia ragazzi che trick Vabbè ragazzi molto molto facile questa partita Con il signor skin da nabbo del coniglio Ragazzi ma quanto è bella ragazzi Andiamo a vincere questa partita E andiamo a sbloccare la nuova skin speciale Infatti ragazzi ci sono molte nuove skin speciali Ad esempio c'è questa che è molto bella C'è questa qua ragazzi Molto carina pure lei C'è anche questo qui molto figo Ma ragazzi ecco qua il coniglio Speciale gold rabbit Vabbè ragazzi ma guardate questo coniglio Come sbriluccica Molto molto figo ragazzi Questa nuova skin speciale del coniglio Sempre tutti ragazzi con la nuova skin del coniglio oro Vabbè ragazzi ma che figo Vabbè sinceramente potevano mettere un'altra skin speciale Per questa nuova collaborazione dei conigli Perché ragazzi già ci sono tre skin oro E abbiamo il capitano d'oro E abbiamo la nuova skin di rugby oro E adesso esce anche questo coniglio oro La skin ragazzi è molto molto bella Però ripeto secondo me Potevano fare di meglio Potevano creare un coniglio ancora più figo E renderlo speciale Ma ragazzi va benissimo così ragazzi Le altre skin e anche questa sono bellissime Mi accogna ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti Qual è la vostra skin preferita tra questi nuovi conigli Il mio rabbit preferito ragazzi Penso che sia quello ragazzi Uno skate Quello ragazzi è bellissimo Ma ragazzi in finale di Lost Temple Con il nostro coniglio Tutto d'oro Mamma mia ragazzi come siamo ricchi Ovviamente ragazzi non l'ho detto per tutto il video Ma queste skin sono in anteprima Non sono ancora uscite nel gioco Ma ragazzi quando usciranno io le sciopperò tutte Non me ne farò mancare nemmeno una Perché queste skin sono bellissime E ovviamente ragazzi andiamo a vincere la partita con questo coniglio Ragazzi ma guardate quanto è bello ragazzi Vinciamo questa partita Va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Vi raccomando ragazzi scrivetevi sotto nei commenti Il vostro coniglio preferito Se vi piacciono queste nuove skin di rabbit Iscrivetevi tutto al canale Attivando la campanellina per un paio dei passi di video E lasciate un bel piaccio a questo video Vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram Da andare a mettere like al nuovo post Con la targhetta di 100.000 iscritti Trovate ragazzi il link in descrizione E al primo commento Se avete ancora tempo andate a vedere questi altri video E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao